Deluso ed amareggiato il sindaco di Firenze Nardella alla stretta da tempo annunciata per regolare l'uso dei monopattini elettrici è arrivata solo in versione soft tramite un emendamento integrato al testo del decreto trasporti. Un misto dunque tra rabbia e sconforto soprattutto per il mancato inserimento dell'obbligo del casco per tutti i conducenti che rimane limitato a 14 anni, misura che avrebbe ridotto drasticamente il rischio di ferite gravi o addirittura la morte. E secondo il primo cittadino del capoluogo toscano sul tema del casco hanno prevalso tra le imprese gli interessi lobbistici. Per questo l'auspicio è che il Parlamento nel prosiegue dell'iter possa inserire questa norma. A proposito invece dell'ordinanza varata da Palazzo Vecchio con la quale si è concesso tre mesi di tempo alle società di sharing e dai privati per adeguarsi all'uso del casco esteso a tutti sui monopattini elettrici, Nardella ha rincarato asserendo che si andrà avanti decisi. Poi l'annuncio del sindaco. Entrò la fine del mese a Palazzo Vecchio tutte le associazioni delle vittime della strada in modo da valutare la promozione di una legge d'iniziativa popolare come Firenze ha già fatto per l'introduzione dell'ora di educazione civica a scuola o il reato di omicidio stradale. Ormai ha poi concluso nel settore dello sharing all'estero come in Italia i monopattini sono dotati di portacasco anche dal punto di vista logistico quindi non ci sono problemi. L'entusiasmo è dunque dilagante ma il rifiuto potrebbe essere esuberante soprattutto se qualcuno decidesse di presentare ricorso al TAR nelle prossime settimane tenendo conto che la proposta di legge Umbrello portata avanti dalla regione per fornire una copertura normativa agli enti locali attualmente è bloccata in commissione affari istituzionali un fatto che non può che raffreddare gli animi dei più bramosi. Secondo gli esperti infatti la materia potrebbe essere valutata come estranea alle competenze della regione e la norma risultare incostituzionale.